Ciao a tutti Gnocecello, lei ha fatto avviare le live senza il mio consenso Le chiedo scusa Senza il consenso di nessuno Ma se il consenso è informato Allora, benvenuti Salve, salve, salve Benvenuti a chi? Benvenuti a nessuno perché non l'abbiamo fatto Stai usando la mia immagine senza il mio consenso è informato? Sì È informato Hai firmato il Dove usare l'agreement quando hai installato disco Ah sì, quando ho fatto accetta C'è, 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 c'è Ciao, Isa Ciao, Isa Ma perché io non ci vedo in live? Sono tornato Per farvi vedere una cosa molto bella Come raffreddo Ciao, Isa Ciao, Isa Marco, guarda che carino L'Umbreon Eh, andate che carino Voi vedete quella cosa C'è uno molto carino Se voi vedete, là dietro c'ho un'ombra Perché c'ho un rosario attaccato Cosa cazzo? Ma sai che mi sembrava un culo all'inizio? Alice Alice, per favore Alice, per favore Ciao, Artiom Alice, lo voglio Ciao, Artiom Alice, ti prego È un Ciao, Ayrton Un pinguino Ciao a tutti Non ci vedo in live Un pinguino Che se tu lo prendi da qui Poi ha le palle Ah, io credo che fosse una chiappa Calcola Due chiappe molto grandi È il crocione con le palle giganti Lì è zardo Quella lì, non dico chi Sì, va bene Lì è zardo Allora Allora Briconcelli Sta zoppicando e torno subito Perché dovete sapere, ragazzi Che Dado Si è ammazzato Io mi devo imparare a guardare la telecamera Perché io guardo tipo lo schermo quando parlo Forse Che ammazzare Magari, Marco, magari Dado si è ammazzato giocando a calcetto Avrei sofferto molto di meno E come i bravi giocatori di calcetto Ha continuato a correre sulla gamba rotta Trelussa si è abbonato a Twitch Prime Ragazzi, non è partito l'alert Benvenuto a Twitch Questo non viene Non viene Questo non viene alle live Soltanto per giocare Overwatch E poi Che vergogna Secondo me Seppure Dimenticato Che c'è No Pure Aibu 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 Che sei veronese Marco Cosa diavolo stai Ballavo Ballavo Nintendogs Ah Ballavi Nintendogs Ok Guarda che bello Questo maglione L'ho comprato L'altro giorno Lì abbiamo Lo stesso maglione È vero Abbiamo Lo stesso maglione Io però È tipo Tre tagli Più grandi Che discarica Abbiamo trovato Questo qua Chi? Trilussa? No No Cercello Ti mi presenta Quando hanno Messo in disuso Alcune Centrali atomiche? Marco Questi mi escludono Però Non erano Parlano male di me E a te escludono Eh evidentemente Sono anche Molto peggio Molto peggio Ciao casa Ciao casa Ciao casa Allora Amici Allora io sono dato Marco non sa cosa fare In Irl Facciamo fare a lui Il cicerone Di questa situazione Ma ti sei matto Ma ti sei matto Con Sono cazzi i tuoi Meraviglioso Pingo Allora Volevo iniziare A dire che sono In lutto Perché? Perché È cambiato Il presento Di nintendo america Che buon reggi Ci lascia Cioè non è morto È morto Mase? Mase? Io reggi Mi è sempre stato Sul cazzo È così Parti Sì L'amicizia Così Alice Sei la mia unica amica Qua dentro No Dato Deve essere onesto Però Io Io E mister Reggi Siamo molto emozionati Reggi probabilmente È stato Uno Dei peggiori Amministratori Di nintendo america Se la Scusi Ci fa il favore Di non sbamare Le palle Io non so Mimente di cosa parli In realtà Quindi Io parlo Per Dati finanziari Alla mano Dati finanziari Alla mano È stato Uno dei peggiori Sbragato Rispetto che Adesso ha Satoro Iwata Satoro Iwata È stato Molto Meglio Di Reggi Anche io Ah no Sono su Una palla Mettendo però Mettendo però Mani basse Che comunque Il buon Reggi Per quanto non mi piaccia Come uomo immagine Si mangia a pie pari Il presidente di Sony Di Sony Giappone Ma anche solo per il fatto Di diventare un meme vivente E alimentare questa cosa Fa tanto All'immagine dell'azienda Certo Sicuramente Che poi comunque Chiogre Grodon E le quasi Gli danno in culo E i reggi Ma possiamo checcare Marco Da questa Alice perché te tocchi Perché ti palti E cosa c'è Cioè lui ha più detti di me E quindi Oltre a violenza Di Di roba Marco Di cosa parliamo Allora Oggi Io Il mio bellissimo Gengar Vogliamo Parleremo Io il mio bellissimo Veigar Scusa Io e me stesso Parleremo Qualcuno Banni Marco Ma Darko Ciao Darko Comunque Presto Parleremo Dei nuovi giochi Che stanno uscendo Ma se continuano Io non so davvero Come gestirlo Parleremo un po' Della situazione Videoludica Attuale E quella Futura Però Nulla vi toglie Di farci domande Di qualsiasi genere Anche Anche curiosità In merito A quello Che stiamo giocando In live O qualcosa Anche delle curiosità Che possibili Dunque Ma è vero che Stiamo giocando L'ambito videoludico Perché non è che poi Mentre stiamo parlando Che ne so Di Apex Veni uscite Dado Ieri quante volte Hai sborrato No Mase Qualcosa di ambito Marco Ma hai 23 anni Mi fai il 23enne Vogliamo una nuova Una nuova rivoluzione Del 68 Vogliamo Vedervi Scannarvi In chat E scannarci Non rivoluzione Nel 64 Alessandro dice Se vi capita Una donazione Proprio se vi capita Guarda quella Se vi capita Guarda Guarda Parloci Della situazione Geopolitica In Thailandia E di difficili Rapporti Con la Somalia Perché tra l'altro Ricordiamo che Thailandia E Somalia Sono confinanti E si contendono Il Facciamo cliccarlo Io posso dirvi Che i pinguini Non sanno volare Anche se sono Di volatili Che cosa vuol dire Che sono confinanti Fammi finire Le tensioni geopolitiche Russo-Israeliane Ci sono Ma non sono mica Vicini di casa Fammi finire la storia Fammi finire la storia Mase Io sto creando una storia Però Dato che si parla di Thailandia Spero che tu parli Del punto centrale Poi magari iniziamo A fare veramente La live Ovvero Come voleva chiamare Oggi la live Aero Posso dirla In live No Scriviscela prima Non è una madonna O niente del genere E allora Vorrei chiamarlo Piselloni neri Thailandesi No No È sbagliatissimo Cari amici Thailandesi Io apprezzo molto Ma anche perché Penso che i Thailandesi Non sono Siamo tanto dotati No Il problema della Thailandia Non è il fatto Sicuramente non sono Piselloni neri Il problema della Thailandia È che il 50% Delle volte Spensi di stare Per andare con una donna E probabilmente Donna non è Ah io pensavo Magari più donna Di molte altre donne Lei apprezzo Chi Lei apprezzo Ecco vedi Achetti è un uomo di mondo E lo sai Ha detto Più che punto centrale Per l'italian Si direi che sia il perno centrale O forno centrale Insomma Già 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 Allora 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 Parliamo Parliamo di situazione Videoludica Attuale Io direi che una cosa Su cui si potrebbe Parlare In primis Può essere Apex Questo gioco di cui Non si sapeva niente Non si sapeva niente Il giorno che esce Fa il boom E sta facendo il culo a Fortnite Cosa abbastanza facile Se proponi un battle royale Gratuito Beh Sì Ok Quello sì Aspetta Abbastanza facile Dipende Perché comunque Prendi anche Roe Roe ha fatto una battle royale Gratuita Siamo a parlare Allora Stiamo a parlare Allora Vogliamo parlare di Fortnite Vogliamo parlare di Fortnite Sereamente Fortnite è il gioco dell'asilo Perché su il 90% degli utenti Sono dei bambini Che non hanno la licenza media Sì Togliendo poi E questo non è una critica Ma è andato di fatto No È andato di fatto E come è come il 90% degli utenti su YouTube Sì Quindi nel momento in cui ti proponi un qualcosa Che esce su più piattaforme Quindi ti esce Ti esce sul pc Ti esce sul Su play Ti esce su xbox E poi casualmente Streamer come ninja Come dottor disrespect Noti per fare le battle royale Prima che esce Apex Senza che comunque si iniziasse a parlare di Apex Perché si è parlato di Apex Praticamente il giorno dopo Il giorno che è uscito Sì Esce fuori Che si mettono a giocare A titanfall 2 Che nessuno se l'è cagato Se non quando è uscito È ovvio che poi esce Apex Ha Penso Due Dei motivi principali Per cui ha avuto tanto successo Tra La massa giovine Gli eroi Perché ormai il sistema Di eroi Ormai si usa in tutto Tra un po' manca soltanto il gioco di carte Con gli eroi E poi il fatto che sia free to play Poi effettivamente Se vuoi andare a vedere Gli aspetti tecnici Di quello che è questa battle royale È molto molto valida Dal punto di vista tecnico Sì però ad esempio Vai a vedere comunque Roy Che magari c'ha problemi Sì Di Di caricamento Perché ogni volta che carichi Ci sono 300.000 pop up Quindi vedi le texture Che si carichano Mentre tu stai già in gioco Quasi mi provo Comunque c'ho La cosa carina Delle classi Che comunque tu potevi Potevi avere la classe Con Preso con un nuovo aggiornamento Magari c'è la bicicletta Oppure c'hai sempre il glider Sempre Che comunque rende La cosa è Arson agli eroi Dice lì Arson agli eroi C'è giusto La cosa è Roe Chi l'ha sviluppato La stessa casa Che ha fatto PUBG Mobile Ti sei risposto Da solo E la Tencent La Tencent Può essere No Però ne stiamo parlando Di Fortnite Di Fortnite Che la Fattola La Epic Oltre a aver fatto Smite Ha fatto una serie Te la metto Gear Subur No Era merdoso Era veramente Merdoso E comunque La Ciao Ammon E poi Comunque Apex Te l'ha fatto La Responde Entertainment Per quanto stia Sotto la EA E' comunque La casa sviluppatrice Di Titanfall Che ha uno dei sistemi Di shooting Migliori Secondo me Ma secondo me Ha fatto successo Odio artimo Adesso leggo Un attimo Ho scritto il poema Minchia Hanno scritto Un stacco Ciao Ammon Ciao Ammon Ha scritto Apex Sono stati Ci sono dei mostri Assoluti a giocarci E' più immediato Non devi imparare Come costruire Il sistema Accordi per il rutto De tutto Veloce Oltre a quello Apex Non è un gioco Dove tu devi Un attimo Fare un corso Intensivo Universitario Per imparare A giocarlo E' immediato Perché I tasti Sono pochi Visivamente E riesci a capire Quello che devi fare E poi La cosa che io odio Di fortnite Sta cazzo Di cosa Che puoi costruire E' una Quella Spararti in bocca In realtà È la cosa Originale di fortnite Che lo legge Un po' più Tra virgolette Tattico Rispetto Aspetta Un gioco di calcio Dove io però Posso usare I bastoni Hanno fatto Il gioco di calcio Dove puoi usare Le macchine Non vorrei dire Ed è un signor gioco Tra l'altro domani ragazzi Terminiamo i live su rocket Che facciamo i piazzamenti Da ogni pomeriggio Va bene Però Nel senso La novità È il fatto Di fare qualcosa Fuori Dotto spero che se ci sia Anche io Comunque scusate Inazumi 11 Comunque Vabbè Insomma Il Apex Legends Come si chiama Apex Legends Apex Legends Quando Io ci ho giocato Due tre volte E io ancora non ho capito Le armi Quali sono Quanti sono Cosa fanno Perché sono Io per me L'ho trattata Troppe C'è chi dice Che sono poche Io non ho trattata Poche Veramente sono pochissime E poi partiamo dal fatto Che sono le stesse Armi Di Titanfall Perché sono Dell'universo Di Titanfall Io Titanfall Non l'ho giocato Quindi Comunque Dice Dice assolutamente Arteon Più che altro Ha creato un lavoro reperibile Ma soprattutto veloce Da apprendere La massa non aspetta altro E come richiama anche Masa Il fatto che ci siano andati Dietro Dietro streamer Fa anche tanto Sì Il lavoro di marketing Che hanno fatto E' stato mostruoso Anche perché Alla fin fine La vera cosa Il vero obiettivo Che aveva Apex Legends E' il fatto Di una cosa Di un qualcosa Sul mercato pc Che adesso Stava prendendo piede Cioè Se prima Che era la cosa Che generalmente preferivo Io Era tutto su steam Adesso Stanno uscendo fuori Ognuno con il proprio lancer Quindi No ma infatti C'era quello di steam E' quello di blizzard Adesso ci sta Quello di origin Che sta Ci stanno pushando Su un sacco Quello della epic Quindi Come fai Per qualcuno A cambiare sulla tua piattaforma Una concorrenza Veramente pesante Su steam Ma l'avevi già fatto Ah Forse sapete cosa No perché lui c'era Subbato Quando abbiamo fatto La live di Overwatch Ha fatto il resub Della cosa dei quattro Cioè l'ha condiviso Per i quattro mesi Per il quattro febbraio Scusate Ah ok E poi ha fatto Quello vero Grazie Non è Vabbè adesso partirà Non lo dice neanche Streamlabs Sì più concorrenza Meglio per noi sicuramente La cosa Il motivo per cui Apex Spinge tanto E perché Cioè si è spingendo tanto su Apex E' perché EA vuole che gente Vada su Origin Non c'è riuscita Con i battlefield Ci punta con Apex Ciao Gislam Artem guarda Sei tranquillo Che sicuro Ma sicuro Tom Clancy farà una Battle Royale Quindi anche Your pleasure La Battle Royale No c'hanno Rainbow Six Non faranno una Battle Royale Vanno contro Vanno Poi vanno contro A Rainbow Six Perdo l'utenza Su Rainbow Six Dopo Marco le armi Prima di raccogliere Ti ricordi Di cerco delle demolizioni Sì lo so Ma Sono stupido Più che altro Il feeling con le armi Tu non hai la possibilità Non c'è Un play C'è un addestramento Dove puoi provare le armi E vedere le cose E Quindi Ciao Marini Quello paradossalmente L'ho visto solo Su cosa Il playground Dove prova tutte le armi Sì sì Per quanto si è presa Per il culo È l'unica Questa cosa qua Vabbè che il fatto del freno Delle Battle Royale Stia esplodendo In maniera importante Allora Tipo Ovviamente Nintendo è riuscito a fare Quello che non hanno fatto Gli altri Nintendo riesce a innovare Il problema di internet Che scommette sempre Poi Capita che vada Vada in culo Perché sbaglia Però Con Tetris 99 Ha dimostrato Che il concetto Di Battle Royale Può essere applicato Altre cose Quello Poi Il giorno Che uscirà FIFA Battle Royale Probabilmente io Comprerò una corda Di acciaio Per impiccarli Ma guarda che Una roba del genere Esiste ma Se hai il nuovo FIFA Ogni gol Ti sparisce Un giocatore Sì 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 Quella è l'eliminazione Esiste da FIFA Street Però Cazzo FIFA Street Comunque Ti lusso È un flop Ma non quanto No Man's Sky Cosa? Eh dice A parte che Ante Mesh Ufficialmente domani A parte che Ante Mesh Ancora non è uscito Ti lusso Adesso È come No Man's Sky Un flop No Perché comunque Non è uscito Era veramente Non aveva Niente contenuti Al lancio Nome Sky Era una bugia Nome Sky Era partito Come Oh mio Dio Facciamo il gioco Perché a me Era partito Un hype Sì Ho dovuto fare una cosa Che io volevo tantissimo Prendere Lo solo che ero povero Quindi non potevo Meno male Sì infatti Ho risparmiato Un botto di soldi Mi ho occupato Nome Sky Vanno mostrato Delle cose Nel trailer Nel gioco finito Non c'era Hanno mentito Hanno palesemente mentito Niente Invece Hanno palesemente mentito Mi sembra abbastanza Anche bisogna farlo uscire A parte che comunque Sto vedendo che viene spinto Abbastanza su Twitch Ormai Un trend Che ti fa comprendere Quanto sono andato bene Un gioco E come va Trilussa Nome Sky Non ha ancora nessun contenuto Allora in realtà Hanno aggiunto cose Comunque ci ho giocato Ultimamente con Dado Liezar E qualcun altro E hanno messo Cose carine Alla fine Le cose che puoi fare Sono quelle Costruisci Viaggi Un gioco rilassante Ci sta Come con Soth Soth Ok adesso All'inizio era Nonostante Adalice piace tantissimo Soth Le piaceva già Dall'inizio Ho detto Soth Soth il fatto è che Non ha mentito Sui contenuti Semplicemente lui Ha fatto uscire una beta Dicendo Ah si si ma non importa Se è noiosa Vi assicuro che il gioco Alla fine è meglio Vi assicuro che la versione finale È meglio Alla fine Era identica alla beta Che è rimasta noiosa All'inizio E poi Cioè ha fatto aspettare un sacco Hanno aggiunto dopo Un anno dopo la beta Comunque hanno messo DLC gratuiti Quindi Comunque No vesti Quella La roba Era quella Di fare DLC Gratuiti La politica di Rer Era quella Di fare DLC gratuiti Poi comunque Bisogna andare Bisogna comunque Valutare una cosa Che Rende il gioco Più accessibile Ma da un certo punto di vista Può essere Diciamo due facce Della stessa medaglia Il fatto che Tra me E magari qualcuno Che ha 600 ore Su Soth Non c'è Effettivamente Una differenza Cioè A parte l'esperienza Che tu hai in gioco Da un punto di vista Proprio di personaggi Siamo uguali Ma che comunque Il tuo personaggio Non progredisce Se non per le reputazioni Non è che hai tipo Armi Che fanno più danno Che figlia Di quello che deve essere Il gioco Cioè Questo gioco Deve essere un playground Di pirati Deve essere uno Ragazzi siamo in 20 Hai visto Minchia Ciao ragazzi La tanca dice Ma Ah sì Ne stavo parlando oggi Con appunto Il Jezar Che lui stesso Si è fatto un mazzo Così per diventare Leggendario E alla fine Non è che si aspettasse Di avere Non so Un archibugio Con Un'agittata enorme E delle palle Grandi così Per essere In Ah sono in mix Con i miei Di check out Sul pvp Ma Piuttosto Però manca Quell'upgrade Del tipo Non so La pala più grande Così scavo più veloce Oppure O l'arma che fa più danni No L'arma che fa più danni No Sarebbe rotta Perché nel pvp Come fai? Però non nel pvp Perché alla fine Non fai Ci sono dei server Con tutte le persone Se tu prendi il primo Con la sloop Non ha senso No ecco 70 euro di gioco Ciao Luca Ma Luca entra Ma Luca Sei scemo Sei scemo Però in effetti Qualcosa che ti può aiutare Tipo Tipo del pvp Anche soltanto Ti faccio un esempio Scemo Che potrebbe Che potrebbe essere Una cosa interessante Tipo Delle armiche Armi che ha in effetti Solamente contro gli scheletri Come? Armi che ha in effetti Solamente contro gli scheletri Che so Come i bossoni debbano Per Dracula No 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 Banalizziamola ancora di più Banalizziamola ancora di più Tipo Io progredisco Nelle reputazioni E ho accesso Ad altre isole No Magari c'è una sfida Ma c'è una sfida C'è una sfida Piuttossa Così io effettivamente Vengo Perché alla fin fine Tu cosa fai Per fare la reputazione Ti metti a fare le missioni E le missioni Più o meno Vai sempre negli stessi posti Cioè Quelle isole Infatti comunque Sol va preso come il gioco Rilassante Da fare in compagnia Ti fai il viaggetto No piuttosto Piuttosto Io sono leggendario Mi spawnano Tre volte Di più Le navi Scheletriche O più possibili Rammissioni In megalodonte raro Sono leggendari Allora magari c'è una sfida Un po' più complessa Perché ho un'esperienza Di gioco Più lunga Rispetto agli altri Quindi magari posso fare Una sfida un po' più Sì oppure Le fai I più V accessibili Tipo la Il ride con le navi Ad esempio Li fai di rende Accessibile solo dopo Un certo livello in poi Allora tu hai il fine Di farmare come un dannato Per riuscire a fare il No ma così poi ti dà Ti dà anche un'idea di progresso Che non è soltanto numeri Di base Di base tu non inizieresti mai A giocare a SOT Se non ti piace farmare Se non ti piace navigare Se non ti piace andare a cercare tesori Per poi venderli Cioè c'è sempre questa dinamica di mezzo Che se non ti piace Sei fregato Certo Quello su cui si basa poi alla fine A me piace da morire Io sono innamorata di quel gioco Però capisco che ci siano persone In cui non Ti russa Comunque se non vuoi spendere Troppo per i giochi al day one Non li prendi Al day one Semplicemente Oppure prendi le chiavi I giochi su pc Comunque tornando un attimo indietro Sul discorso Stavo facendo su Anthem Ci sta la tata anche che ha scritto Anthem bisogna prenderlo come destiny Questi giochi escono con contenuti Non esagerati Che vengono aggiunti Nel tempo per tenerlo vivo I giochi li prendi più Per come possono diventare Che per come escono E allora aspetta però Aspetta un attimo Se io devo prenderlo Se io devo prenderlo Per quello che poi deve diventare Non me lo fai pagare Oh cacchio va bene Adesso ci sta Alice enorme in mezzo A me ci sta Marco Da me c'è Marco Siamo tutti La cosa è Tu i contenuti li puoi mettere Li devi mettere Perché tu devi mantenere vivo un gioco Che si basa sull'online Però Non mi devi dare qualcosa di incompleto No vai tranquillo Mi spiego Mi spiego Destiny 1 Il primo Destiny Aveva una serie di contenuti E hanno poi fatto degli aggiornamenti Questi aggiornamenti all'inizio non sono andati bene Si sono rifatti con le espansioni successive Quindi Destiny 1 è stato un gioco Che comunque fino all'uscita Destiny 2 è stato giocato E anche molto Destiny 2 invece prendeva tutto quello che c'era in Destiny 1 Quindi tu avevi praticamente un Destiny 1 aggiornato Su Destiny 2 I contenuti in più però non sono riusciti a stare al passo Cioè i rinnegati Una cosa su cui hanno puntato tantissimo Perché era un upgrade di trama Abbastanza importante Che doveva presentare chissà che cosa Perché poi effettivamente loro hanno fatto una cosa molto bastarda Con i DLC di Destiny 2 Ciao Io arrivo a un livello di equipaggiamento Che è tipo di 300 di luce Con i DLC arrivo a 640 Io mi ricordo che al Destiny 1 È il doppio Cazzo Cioè È esagerata come cosa Io tipo Destiny 1 Considera l'ho giocato per Mi pare 3-4 mesi di seguito Abbastanza frequentemente Sia principalmente con C'è presente Giuseppe Omar No Mase Sì sì Salutiamo Giuseppe Omar Ciao Giuseppe Omar Che non ci seguono Ciao Giuseppe Omar Scommetto che sei simpatico Sono la stessa persona Giuseppe Omar Non dico no Giuseppe sì Come Gianni Pinotto Come Gianni Pinotto Esatto E E Quello mi aveva preso abbastanza Cioè ci giocavo sempre Era ripetitivo eh Però comunque stavi lì Cercavi Aspetta E ripetitivo in che forma Perché ti andavi a fare sempre Quegli stessi ride lì Ma sì Alla fine comunque i ride erano quelli Non è che potevi farne tanti altri Ci stavano i ride Ci stavano le missioni Ci stava il crogiolo E via Eh Praticamente hai smorzato metà di Destiny Perché poi ci sono Hanno inserito Dopo che tu fai certi ride Dai delle quest Con degli enigmi Interni Ah quelli me l'ho perso Devi Devi Poi ci sta Tu conti il crogiolo Normale Che è quello là Che praticamente è un pvp Dove tu Dove le statistiche Dei livelli e delle armi Non hanno senso Quindi La Effettivamente tu che sei a livello 1 Poi subito buttarti nel pvp E fare cose Però poi ci sta il crogiolo competitivo In cui ti mettono La La settimana di crogiolo Che sarebbe Che era legata All'ultima espansione Del re di ferro Del re di ferro? No Ma non mi ricordo Però ti mettono Poi nel weekend C'avevi le prove di Osiride Che erano veramente No sì mi ricordo Mi ci chiedevo tantissimo C'è una idea di quanto ci abbia giocato Le facevo quelle cose là Quindi Capi la cosa No ma comunque Era un bel Destiny 1 Era un gran bel gioco Io Destiny 2 L'ho preso al day one E ci ho buttato 40 euro Perché comunque l'ho preso su Instant Gaming E l'ho pagato 40 euro Però Ayrton ha fatto un Un po' Ma che non l'ho letto Non volevo lasciare indietro No io l'ho letto E sono d'accordissimo È esattamente quello che stavamo Cosa l'ha letto? Semplicemente per rispondermi Sotto non lo devi prendere Come un RPG nel vero termine Ma come un gioco perfetto Per il roleplay Che poi questo non porta Il giocatore a restarci È logico Perché un po' di differenza Tra uno che ci gioca da mese Di un ovelino Ci deve essere Magari non da far frustrare Il giocatore nuovo Ma di invogliare il veterano A restare Ma la differenza in realtà Sta nelle skin Nel farti Tra virgolette L'hazard Perdonami il termine Il figo Perché c'hai Le skin della nave di Atena Però è giusto Perché ti sei fatto Un mazzo grande così No certo Ma L'hazard ci gioca Un casino a SOT Ci mancherebbe Tutti i giochi Alla fine sono ripetitivi Dipende da quali l'approccio No No Non sono d'accordo Non sono ripetitivi Forse Giochi con un altro L'ultimo C'è Luca Se tu ti prendi Un qualsiasi single player Fatto bene Non dico E' proprio E' proprio E' proprio E' proprio E' proprio Prenditi un Legend of Zelda Prendete un Ecco Sono il solito fagone di merda Prendete un Legend of Zelda Voi avete In Breath of the Wild Avete questo mondo enorme Ciao Quanto scuro Luca Ciao Luca Anzi Le pigioni di Azkaballo Passa luce Sì vabbè Di Azkaballo è normale Il multiplayer diventa ripetitivo Perché lì la cosa Cioè La cosa che devi intrattenerti È il fatto di Di affrontare Persone umane Che devi Ad esempio League of Legend I MOBA Sono la morte Della ripetitività Perché tu fai sempre la stessa cosa Prendi La sfida sta che ogni partita È una storia Sì Prendimi Dato È quella la cosa È Rocket League Sono 5 minuti di ripartita Sempre uguali Però ci giocano Da 3 anni ragazzi Scusate Marco Marco Se Luca è scuro Abbiamo appena finito Di accoppiarsi C'è donno cose Non le quinte amici Così Comunque Io continuo a dire Che la Sionics Con Rocket League Ha fatto un lavorone Perché è un gioco stupidissimo Se ci pensare Calcio sulle macchine Beh io Quando la prima volta Che l'ho sentito Ne avevo più pallida idea Di cosa fosse Me ne ha parlato Rick Tra l'altro mi fa Oh ma sai che esiste Un gioco Cioè calcio con le macchine Oh mio dio Che figata Che c'è stato questo Nel senso Ma io ogni volta Che spiego ai miei amici Che comunque Non giocano al pc Quanto ci gioco io Comunque alla play Comunque non gioco Quanto gioco io Che il mio gioco preferito È un gioco di calcio Sulle macchine Dico ma Che cazzo fai Perché C'è pure spesso soldi Faccio No ma sai quella cosa bella Che tu dicendo Gioco di calcio sulle macchine Sei anche riduttivo Nello spiegare Rocket League Sì però alla fine è quello Perché comunque Non immagino Tutti i movimenti tridimensionali Che c'è intorno Cioè il fatto di volare È molto curato Sì E di quanto sia comunque Partiamo dal presuppo Che la fisica di Rocket League Fa veramente schifo Schifo al cazzo Penso sia E lo dico da uno Che ama il gioco Come la fisica di Rocket League Tutte le altre cose I Rocket League Non fanno schifo al cazzo I netplay No le mammelle sono belle Vabbè la community Dato quale community Non è bella I netplay La community Mase 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 Ma infatti c'è ragione Ha unito in due delle più Le due più Eh va bene Marco Ha unito Le due delle tre più grandi Passioni dei maschi Macchina e pallone Ma cosa è un'ultima Ed è perfetta Quando giocano a Squeezie C'è Vabbè Sai che roba Sai che contributo Incredibile Alla storia di Rocket League Però ragazzi c'è Quanto Quanto stiamo facendo Gli streamer Classici Che io ho Alice enorme in mezzo La girl dreamer Enorme in mezzo Alice scolla un po' che cuore Adesso Se siete persone oneste Adesso Adesso tutti quanti insieme Facciamo così Perfetto Ho fatto anche io Che non ho dovuto staccare Anche i nostri amici da casa Perché così dimostrano Che sanno Con le mani Io intanto mi tiro Sulla maglie E quanto Così Adesso Inizio a tirare talmente Su che inizia Vedersi da sotto Quindi ragazzi Vorrei un sesto su discord Per chi mi dà troppo fastidio Sta cosa No Marco Hai rum Comunque Marco sono io Che ti faccio guadagnare Dei soldi Non vorrei Che si scrive così Ha fatto un gioco Nel 2008 2007 Scusi Per PS3 Comunque Poi ha deciso Ti buttassi fortissimo Con lo stesso gioco Con qualche camionete Ma il più gioco Si Il gioco si chiama Aveva un nome lunghissimo Non mi ricordo il nome Ma era Tipo Super Sonic Super Sonic Car Battle Lair Figa Razzi Cose così Una parodia praticamente Sì ma era davvero Super Sonic Cacrobatic Rocket Powered Battle Cards Cioè che erano cose Cioè già che ti chiami così Sembra il nome degli attacchi di Trunks Già l'acronimo è una parola intera Perché Ah tra l'altro Che cos'è È una supercazzola Non ho capito Il link di Wikipedia Esiste davvero L'ho trovato No non so che esiste Ma mi ricordo Un sacco Uno dei DLC Che fece la Capcom Per Come si chiama Per Dead Rising Che era una parodia Di Street Fighter Che in realtà si chiamava La Ultra Iper Mega Champion Turbo Edition Perché Come era Skyrim Come era quella L'avventura testa La frigorifero Mandaggia al demonio edition Anche per essere Funziona Sì Anche Premettendo che I giochi single play Non siano noiosi Dipende Perché No è una bugia Che se è buon male Non si è una bugia Non si è una bugia Non si è fatti bene Perché Sto vai Ma sei il massimo esperto Posso tranquillamente Daci darti un gioco Che è la noia Fatta a videogioco Darksiders 2 È vero Concordo Darksiders 2 Allora Tu hai il primo Darksiders Che è effettivamente Una versione di Legend of Zelda Riportato in un ambiente Più maturo Maturo tra virgolette Perché è soltanto Più maschia Perché Vabbè Perché sai Se il cavaliere dell'apocalisse È strafitto Quanto scuro Ma la gente dice Però tipo Darksiders 2 È la noia Perché è sempre la stessa D'accordo Ma quello non capisce Un cazzo che giochi Invece ci sta Un gioco che ha avuto Un flop Però non era tanto atteso Non so Quanto seguiate Quello sul server No Qualche volta Quando fanno ridere Ah poi basta Parare di Attenzione Attenzione Frecciatina Ho sentito tipo Vi sto sinergo Fare un attimo Che male Arrivano Adesso non mi ricordo Ciao Michiro Ciao Michiro Iniziate Non è finito Al contrario del primo Allora io posso capire Che vi sia piaciuto Darksiders 2 No ma C'è soltanto un problema C'è soltanto un problema Su Darksiders 2 Il problema è che Ti porta Allora praticamente Darksiders 2 Soffri una cosa Allungano il brodo Ed è palese Perché tu hai certo Un marco Ma tutti fanno Quella curiosità Di Di scoprire più la tua Per quelli ti mettono Effettivamente Ok Devo andare a raccogliere Questi oggetti Per poter andare avanti Eh ma l'ultimo degli oggetti Che stai raccogliendo In realtà non è intero Devi farci È un po' È la stessa cosa La puoi vedere anche Su altri tipi di titoli Ad esempio Fallout 4 Fallout 4 C'è gente che l'ha adorato E c'è gente che la odia Che non è piaciuto Ma perché c'è gente A cui non è piaciuto La risposta Che è più semplice da dire È perché ha giocato Fallout 3 Ah ok Tipo a me va a avere un piacere Da proprio Fallout Per il gameplay Che non mi ritrovo Quello è un altro Fallout per il gameplay Però tipo Ci sta gente che ha giocato Fallout 3 Ha aspettato tantissimo Il 4 Dopo un po' Si è annoiata Perché effettivamente Il 4 Non è innovativo Rispetto al 3 Quindi quello è un gioco Single player Che in base a Chi gioca il titolo Può avere delle esperienze Totalmente diverse E con me il fatto Che stiamo dicendo Marco che stiamo dicendo Sul fatto che a te È piaciuto molto Unlimited Cruise Sì di compisso Nonostante Avesse preso Sigma Perché lì poi Entra anche in mezzo Quella che è l'esperienza personale Sì anche Comunque è soggettivo Come cosa Ovviamente a me È un gioco così Non era ovviamente Tanto questo granché Di gioco Niente di innovativo Rispetto all'altro I giochi che erano già usciti Però si giocava Tranquillamente Certo Allora Iroh Sono perfettamente D'accordo con te Ma a questo punto Il combat system Sì che era fluido Era veramente ben studiato Perché morte Effettivamente Aveva un upgrade Rispetto a quello Che era morte Nell'ottica Morte rispetto a guerra Rispetto a quello Che sono poi Tutte le serie di combo Le armi utilizzabili E quant'altro Il problema viene dopo Il problema viene sulla trama Io un single player Devo giocarlo per la trama Io non mi faccio Tipo 100 euro Un'ora Su Assassin's Creed Odyssey Se non fosse stato Che la trama Effettivamente Era ben scritta Per quanto potesse Risultare banale In Dark Side of the Dragon Si sono incentrati troppo Sul migliorare il gameplay Col fatto che ci sono Le armature personalizzabili Le armi Ma quella è un'ottima cosa Ma quella è un'ottima cosa Però poi hanno Veramente tralasciato la strama Non è che l'hanno tralasciata Ma hanno fatto Un allungamento di brodo Per giustificare questo farming Che però Potevano renderlo meglio Poteva renderlo meglio Perché Si poteva fare di più Infatti Il problema del 2 Era un trama Il mondo Esatto Perché poi il mondo Era veramente vasto Che tu potevi esplorare Era un vasto vuoto E' come l'open world Di The Phantom Pain Tu puoi esplorare Una regione vastissima Dell'Afghanistan Che è deserto Quindi non ha tanto senso Invece male Devi giustificarlo Invece male Tornando a fare i fagotti I fagotti Tipo Breath of the Wild Ah beh Certo In senso Diciamo che questo problema L'abbiamo iniziato a percepire A far percepire Io Far Cry 5 Non l'ho giocato ancora È una grave mia mancanza Io ce l'ho Però effettivamente La serie di Far Cry Inizia a soffrire Quello di cui stava soffrendo Assassin's Creed Cioè tipo L'1 e il 2 Sono stati dei titoli un po' Il primo era un po' meglio Del 2 Il 3 ha fatto un lì Il 3 è stato Botto Il 4 era carino Il 4 era tanto 3.2 E il 5 Ci sta provando Però effettivamente Devono fare New Dawn È diventato un MMORPG RPG Single player Ovviamente si guarda Su un trailer Di New Dawn Quindi non so proprio La cosa più che altro È che secondo me Devrebbero fare una cosa Come hanno fatto Per Assassin's Creed Cioè si fermano due anni E dicono Ok Abbiamo questa formula di gioco Riusciamo a evolverla? No Vogliamo rivoluzionarla Sì come E proviamo E l'hanno cacciata Niro Chissà perché Nessuno si ricorda Del povero Fare Cry Primal Chissà perché Ma io c'è un amico Che ha detto Marco no Che figata Amico Com'è per fare Cry Primal Io lo faccio Iro anche la square Stava fallendo Quando ha fatto Final Fantasy Ma non vuol dire Prima di fare Final Fantasy Poi hanno fatto Final Fantasy Non vuol dire Che sia stato fatto a merda Non è una justificazione Tu non vuoi fallire Quindi non fai un gioco del cazzo L'hanno latinato Primal No ma non l'ho citato Semplicemente Che non è Non è nella serodinaria Anch'io Far Cry Primal L'ho iniziato Poi non mi ha Non mi ha preso Per quanto sia comunque Interessato Perché è un bel esperimento Far Cry Primal Effettivamente È un primo tentativo Come possiamo rivoluzionare Era una cosa originale Comunque non è Come possiamo rivoluzionare Far Cry Primal Non è un'ambientazione Non convenzionale Tu giochi un FPS Nella preistoria È una bella idea No è originale No come concept Come concept Ristava Come era stato realizzato Un po' meno Secondo me Beh un esempio simile Però possono essere i Souls Io li ho giocati tutti Solo per CS Non so Per Counter Strike Per Counter Strike Sottamente Allora Combat System Sarà Combat System Perché comunque Ovviamente Si basa su Quello È fatto Ovviamente c'è i suoi problemi Però comunque si basa Principalmente su quello Dark Souls Quindi Ho capito Ayru però Non vuol dire niente Tu vuoi Rialzarti come casa Non rush un gioco Sì Anzi Tu devi rialzare Allora Questo è uno dei problemi Che si ha In un periodo economico Con questo per le case Dicevo Questo è uno dei problemi Che possono avere Le case sviluppatrici Che devono Effettivamente Rialzarsi da un flop Che tu per rialzarti Da un flop Dovresti Prenderti il tuo tempo Per sviluppare un titolo Ma per prenderti Il tuo tempo Per sviluppare un titolo Ci vuole un finanziamento Importante Sono soldi che tu devi Spendere su Uno sviluppo Che prende dei tempi Più lunghi E sono dei business case Che a volte Non puoi raggiungere Tipo farlo negli anni 80 Era diverso Rispetto a farlo Nel 2019 Però Cioè effettivamente Poi comunque È pur sempre Un rischio Per questo Adesso Per questo Adesso Tipo c'è stato Durante il periodo Della Playstation 3 Dell'Xbox 360 E c'è stato Il boom Effettivo Degli FPS Soprattutto per la Componente online E quindi Siamo ritrovati FPS A destra E a manca Alcuni Dal alcuni Che erano veramente Dei bei titoli Che sono passati Un po' in sordina Come può essere Ad esempio Un bullet storm O come può essere stato Dal punto di vista Dell'online Un certo Mag 512 Mag 512 Era un titolo Fighissimo Una sorta di E un FPS Su un futuro distopico In cui il mondo Era diviso In tre macro regioni Dove si arrivava A fare delle battaglie 256 Contro 256 E' planet side Praticamente Planet side 2 Non si sta calcando nessuno E planet side era gratuito E' tuttora gratuito E' tuttora gratuito Sì sì Ma mag si pagava 50 euro L'ho comprato Io ho fatto partite bellissime Planet side è davvero carina Come idea E ci gioca un bordello di gente Ancora a planet side Tantanca Sì ma non è detto Che tu per rialzarti Da un flop Deba per forza Deba per forza Fare un gioco Dispendioso No comunque dicevo Guarda la gente Che non si è nemmeno Riuscita a rialzare Ci è andato fuori giochi Basta tu che riesca Con un concept originale Tantanca E' fatto Non devi fare il mondo Grande quanto Il Texas E i dettagli Del buco del culo Delle scimmie Del mondo di gioco Non c'è bisogno Posso citarti Tranquillamente Un gioco che va Contro qualsiasi cosa Che si possa pensare Che debba essere dispendioso Da questo punto di vista Undertale Sì Undertale è un Concept della madonna In cui In cui le scarse Cioè Le possibilità Offerte al momento Quindi di creare Una grafica Di un determinato tipo Sono Sono state E' stato tutto E' tutto quanto Integrato all'interno Di un'idea Originale E intelligente Shovel Knight Binding Appunto L'ha detto anche Mickey Dettagli elevati O grandi spese Guardiamo Undertale Un gioco Che c'era già Perché Dtps E' pieno Il mondo Si Ci metti Un'idea Dentro Che poi Ovviamente Vedi tipo Lì invece Tu hai fatto Un'ottima esempio Tipo Splatoon Se fosse tipo Con la grafica Di Battlefield 5 Renderebbe di merda Certo Perché non è Ovviamente Non è il gioco Che Sì ma Appunto Non serve Spendere Miliardi Su un gioco Basta avere un'idea No Non serve Spendere Miliardi Bisogna Spendere Cioè Bisogna Fa Bisogna fare Gli investimenti Nel giusto Ma ovviamente Come diceva prima Sì ma non è necessario Spendere sempre Sempre folli Perché ovviamente Tu devi fare Beh quello no Però se tu sei una casa Se tu sei una Se una software house Di un certo livello Hai comunque Degli stipendi Davanti di questa gente Devi farla lavorare Non è che tipo Ragazzi Dato che dobbiamo fare Un progetto Che è la nostra Ultima cosa Sapete che c'è Di questi 500 Me ne tengo 100 E mi faccio un progetto Sì Ma Poi entriamo Entriamo in ambiti Di economia aziendale Di un certo livello E non Diventa di È difficile parlarne Però si Ovviamente Con il corso Intendo il tempo Che ci vuole A sviluppare No I tempi Escono giochi In troppo poco tempo Sicuramente Cioè il fatto Che dei titoli Come cioè Il fatto Che ci siano Delle release annuali Ed è ormai Diventata La prassi Che ora Si sta abbandonando Perché Se tu Il rilasciare Un gioco All'anno Significa che Io faccio uscire Il titolo a novembre Però io sto Già lavorando A quello dopo E ma io Non ho il tempo Di poter fare Della ricerca e sviluppo per potermi inventare un qualcosa quindi tendi a essere ripetitivo riproponi la stessa solfa e c'è gente a cui la stessa solfa piace fino a un certo punto perché quando è uscito stiamo parlando di calcio vabbè quella è un'altra cosa per esempio Assassin's Creed ha perso un po' di pubblico vecchio ma ha guadagnato parecchio pubblico nuovo ha abbracciato la parte GDR ha fatto un action RPG hai perso il pubblico perché effettivamente Assassin's Creed non è più uno stealth e lì perdi molto è un altro gioco io ho apprezzato moltissimo Odyssey, ho giocato Origin e mi è piaciuto ma perché io volevo vedere l'ambientazione mi ha preso per un altro motivo perché a me quando annunciarono Origin e ho visto il fatto dei livelli ho detto cazzo tu mi stai dicendo che se io faccio lo stealth non ammazzo nessuno è un reboot è un reboot e ci sta comunque sia tu abbracci un genere diverso a parte che è diverso ma è un genere che può avere infinite possibilità è popolare quanto la merda adesso può starci non è una brutta idea tra l'altro comunque te mi hai detto una cosa giusta cioè te hai voluto giocare Origins per l'ambientazione che è comunque quello su cui si basano anche gli Assassin's Creed c'è ad esempio Odyssey vabbè che comunque è un gioco della saga di Assassin's Creed che è comunque un gioco ma io volevo giocarlo proprio per l'ambientazione perché io personalmente l'antica Grecia la adoro quindi ci sa comunque che prendi fan o perdi fan per il fatto ambientazione ti prendi il rischio sì come la stessa cosa che ha fatto Neo ok esatto che non era praticamente non so se era riuscito un gioco sul Giappone Feudale prima di Neo ma Neo ha detto vabbè sì sicuramente sì non so cosa però comunque certo Ionimusha mai sentito comunque eh beh PS2 PS1 i Samurai Legends ne è uscita di roba sul Giappone Feudale non a questo lì ora di profondità appunto i Ninja Gaiden i Ten i Ninja Gaiden cavolo sì cioè comunque non so qual è la casa di Neo comunque ha fatto Neo boom esploso Neo ci sta adesso Sekiro ci sta Ghost of Tsushima sicuramente con un po' di anni di ritardo che ne è uscito 3 o 4 anni fa sì 3 o 4 anni fa adesso c'è l'animo 2 identità per fare il salto di qualità ma io posso semplicemente dire una cosa allora io mi sono fatto questa tipologia di idea allora se tu finisci Syndicate e prendi l'enciclopedia di Assassin's Creed hai una copertura totale sulla lore lì si sono fatte lì si poteva fare tranquillamente una scelta o Assassin's Creed muore o si rivoluziona perché tu una determinata idea puoi portarla avanti fino a un certo punto la porterà avanti fino a un certo punto perché normalmente le cose le cose come iniziano devono necessariamente finire quindi è ovvio che Assassin's Creed morirà anzi sarebbe dovuto morire molto prima secondo me arrivato a Black Flag si sarebbe anche potuto tranquillamente fermare ma anche già soltanto se avessero fatto la trilogia di Ezio con la trilogia di Ezio ti davano una fine con la storia di Desmond e chiudevi tutto il cerchio di ass di contra assassini e templari non avrebbero fatto un errore sto giocando adesso Matteo la cosa che dici te è quello appunto che fa la Rockstar con che ha fatto con come si chiama con Red Dead Redemption che il 2 è un giocone hanno fatto molto meglio addirittura del primo che anche il primo era un signor gioco e che ha deciso di non fare con GTA perché adesso non so se uscirà un GTA 6 ma non penso neanche abbia senso far uscire un GTA 6 c'è detto che esce GTA 6 esce sicuro perché il 5 comunque è un giocone non so cosa ha raggiunto i veri enormi il mio gioco ancora valido oggi io l'ho visto mi sa una settimana fa sì che uscirà io l'ho visto tipo una settimana fa GTA 5 che era a 30 euro ma fino a poco fa stava ancora a 60 al GameStop no ma lo trovi ancora sono quei giochi ma quello lì dipende non da quanto allora però si è andato a citare un caso particolare la Rockstar però la Rockstar fa uscire un titolo ogni morte di papa però ti spara questa roba incredibile hai fatto un paragone hai fatto un paragone molto interessante che è quello Red Dead Redemption e Red Dead Redemption 2 già il fatto che c'è una differenza c'è una distanza tra gli titoli abissale mi sa quanto 5 anni che più o meno GTA 5 è uscito quando uccide Red Dead Redemption mi pare può essere no mi sa di no perché non posso aver fatto giochi così grandi insieme no scusa GTA 5 è uscito insieme a all'epoca della Playstation 3 oddio è uscito quando era a cavolo tra 3 e 4 quindi parliamo di allora la cosa è tu fermiamoci un attimo ad esempio Red Dead Redemption hai un titolo con un'ambientazione originale quindi tu crei quello che sarebbe una diciamo un po' qualcosa che fa un po' una simitudine a uno spaghetti western perché effettivamente c'è molto di Sergio Leone nel primo Red Dead Redemption quindi tu crei questo titolo comunque dall'esperienza che hai fatto con i GTA perché i GTA ti aiutano nel fare le ambientazioni e quant'altro ti trovi a dire ok dobbiamo fare Red Dead Redemption 2 oltre a dargli una trama della Madonna perché è difficile raggiungere i picchi che ti ha dato il primo Red Dead Redemption perché il primo Red Dead Redemption veramente brividi e colpi di scena della Madonna che stanno nel primo Red Dead Redemption dove possiamo quali sono i punti in cui in cui Rockstar effettivamente non si è buttato e non ha voluto fare non ha ancora fatto un qualcosa cerchiamo di rendere l'esperienza quanto più realistica possibile in che modo lo faccio inserisco delle componenti survival all'interno dell'ambiente di gioco e quindi tu giochi a Red Dead Redemption hai la sete hai la fame hai un'interazione col mondo di gioco che è veramente di altissimo livello quindi tu oltre alla trama tu vivi effettivamente quella che noi chiamiamo la lore tu vivi il mondo di gioco che non è una cosa da poco in un titolo single player e poi ci sono le palle dei cavalli ma quella sembra però allora vedi quella sembra una cazzata tu dici eh hanno messo il fatto che se fa caldo e fa freddo scende o sale la wallera del cavallo però tu vedi fanno cioè mettono cioè hanno messo qualcuno a sviluppare delle codice per sta cazzata ma chissà quanto l'hanno pagata secondo me sai cosa ti dico su GTA 6 metteranno che se fa freddo al personaggio femminile escono i capezzoli così che dolore e se crema arcocerchietto crasha il gioco io lo farei Rockstar se mi ascolti fallo adesso ti può compare il signor il signor Michele Rockstar non era Guglielmo pensavo fosse Guglielmo Rockstar ah Guglielmo Rockstar non è Guglielmo è una faccia da Guglielmo Michele Giovanni come vuole lui ma si fa povere dettagli però ci spende anche miliardi si infatti comunque a questo punto come dicevo prima non mi sa sentire vogliamo citare quindi Kingdom Come per questa cosa vabbè guarda Masi ce ne va ciao Masi pure quello ha tirato su un hype assurdo c'è un mio amico che studia un mio amico un tipo che conosceva una volta ciao Masi intanto lì se ne è andato che studiava un mio amico ciao Masi una volta era un amico no no non Masi era l'ex batterista cioè il batterista della mia vecchia band che studia archeologia e voleva tantissimo comprare Kingdom Come perché dice oh mio dio ricrea il medioevo imbo e che punto è successo stesso così in Nome Sky praticamente oh mio dio ricrea il medioevo imbo è mio gioco enorme grandissimo wow figata e io mi credo come sia possibile che gente difenda un gioco come Kingdom Come che continua viene venduto come gioco AAA non è vero non è mai stato venduto come titolo AAA all'uscita costava 40 euro ah 40 euro ok scusate comunque è pieno zeppo ora ne costa 50 scusate pieno zeppo di bug nonostante abbiamo detto di averne sistemati più di 200 continuano ad esserci bug continuano ad uscire fuori cose io mi baso comunque su quello che vedo da quei due sul server che diciamo loro dicono di non farlo ma principalmente rompono apposta il gioco però ci sono volte in cui si rompe davvero davanti gli occhi e loro non possono fare nulla tipo il bug della prigione che loro sono gli crash il gioco quando stanno in prigione quindi non possono andare in prigione oppure il fatto che è un gioco in cui tu puoi fare effettivamente il cazzo che ti pare se tu vai a fare il cazzo che ti pare e te la giochi da vuoi fare un po' di roleplay vuoi fare il caotico malvagio per dire alla dnd cosa è scritto ho letto troppo corte ho letto troppo corte non mi riesce se vuoi fare il caotico malvagio per dire alla dnd non puoi farlo perché non puoi andare avanti con le missioni se diventi cattivo cioè non l'hanno voluto strafare loro non si sono resi conto che roba fosse da sviluppare non si sono resi conto in quanti erano allora la cosa che mi dispiace un sacco è che allora loro hanno detto dobbiamo allora vogliamo creare un gioco di ruolo un gioco di ruolo all'Eilder's Force cioè un gioco di ruolo dinamico è molto action di immersività in prima persona cosa vogliamo fare e poi magari il medievo lo ricrea pure bene porca puttana non penso sì nel senso magari il medievo lo ricrea bene ma è quello che gli sta attorno è quella la cosa io l'ho comprato perché non è medioevo fantasy è medioevo è medioevo quindi non è che mentre sto camminando oh mio dio ecco il mago frizzi che mi tira la magia della del mago cervicante no io sono il figlio di un fabbro all'interno di una città ci sono i due stati che effettivamente in quegli anni si sono combattuti no proprio le le date storiche se tu vai al castello di che cazzo di Praga nel 1423 ad aprire trovi l'assalto al castello ci vai a maggio e l'assedio è stato fatto che figata peccato che realizzato l'ha fatto mio cugino sto coso neanche farsi l'uovo in padere l'altra cosa brutta secondo me quello che è successo è quello che è successo perché lui aveva scelto come progetto aereo superiore di fare risico in java ora presente il risico mamma mia ecco le variabili possono essere il risico e gli è venuto fuori forza 4 quindi gli altri hanno forza 4 lui ha fallito gli altri no sì perché sono andati sul semplice però a me è semplice una cosa che ha dato fastidio di kingdom cam aspetta mia nonna l'ha fatto la deep silver sto gioco appunto ma a parte quello c'è il fatto che il personaggio che si chiama non mi ricordo adesso vabbè Henry che si chiama Henry giusto non è realmente esistito Henry ok è certo che non è aspetta aspetta e allora perché non posso crearmelo io il personaggio e farlo come voglio io e è un personaggio preimpostato perché era un casino animarlo perché è un casino animarlo cioè che è una cosa che da fastidio se ci pensi se il personaggio non è realmente esistito io lo voglio creare voglio che sia un mio personaggio voglio poter fare il brutto da faccia verde quello che è come Mass Effect Mass Effect tu lo crei il personaggio personalizzato ma poi alla fine giochi Shepard sì però è un personaggio non è realmente esistita però non si basa su fatti ma quella è una scelta quella non è ma quella non è stata una limitazione quella è una scelta io ti do un personaggio che devi interpretare poi lo interpreti come vuoi tu perché non c'è scritto da nessuna parte che Henry deve per forza essere un cavaliere leale può anche essere un figlio di puttana che vuole fare il cazzo poi il fatto che non sono riusciti a farla bene questa cosa quello è un altro conto è un altro conto ma ci sono dei dettagli della madonna dentro a Kingdom Come ad esempio tipo personaggi no tipo se tu combatti ti sporca l'armatura di sangue se tu vai in città con l'armatura sporca di sangue ha un certo effetto se non ti lavi e quindi puzzi ti aumenta il carisma perché a quanto pare nel medioevo alle femmine piaceva l'uomo proprio masculo che sapeva di merda Marco non erano ancora arrivati i francesi non erano ancora arrivati i francesi però se ti vuoto cerchi di fare lo stealth e puzzi la guardia dice ma che è e mio dio è fighissimo sì però poi le idee c'erano il globo le idee c'erano ma non sono stati capace a fare comunque ma se ti hai citato Mass Effect la scelta del personaggio di Mass Effect è molto intelligente perché ti dà la sensazione di creare il personaggio di vivere la tua storia allora aspetta tu l'hai giocato Mass Effect solo il primo in realtà l'hai personalizzato il personaggio sì però alla fine ok è la storia di Shepard come ha scritto Tatanka nel senso ti dà l'impressione di avere il tuo personaggio ma non è del tutto vero cioè te lo crei fisicamente ma e anzi addirittura addirittura uno dei problemi di Mass Effect Andromeda è stato il fatto che non ci fosse Shepard quello è un personaggio scritto tu hai l'impressione tu puoi personalizzare un personaggio che non sei tu è come Dragon Age 2 no è come Dragon Age 2 in Dragon Age 2 tu crei un personaggio personalizzato paripersonalizzato ma vivi la storia di Oak non è come il primo non è come Dragon Age 1 non è come Dragon Age Inquisition Dragon Age 2 è quello che c'ha un personaggio scritto per quanto potrei prendere delle decisioni sarà sempre quella cosa lì il fratelli ha fatto problemi di Mass Effect ho sempre stato il principio rimbossato anche io perché io sto giocando Shepard non sto giocando io infatti la cosa che io ho adorato di Andromeda era l'assenza di Shepard Ayroud dice ha fatto un predictore sui generi dei giochi ancora non annunciati 2019-2020 generi? generi di giochi allora generi è come cazzo faccio se vuoi riuscirà uno sparatutto sicuramente fra un code un Battlefield qualcosa esce 2019-2019 sul generi è un FPS ho detto in quel senso lì ragazzi 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 no io ti do anche il titolo che sono da me si però Ayroud non pensi questo Ayroud riformula gioco di carte collezionabili di Battlefield lo so sui giochi da tavolo lo dico sparò giù la passione per Switch magari cazzo mi parla troppo l'uno sull'altro scusate che è la prima volta che lo facciamo è la prima volta può darsi aspetta ho detto tipo forum lo time out per eh raga però ma 100 secondi Mase Mase tantissime 600 secondi Mase Mase aspetta come si toglie toglierlo Mase ho sbagliato Dado pensaci tu faccio io ho fatto ho fatto come il ban non l'ho bannato lo so speso è uguale mi ha appena scritto mi hanno bannato che begli amici che siete figuro mio dio manco gli avessi sparato in faccia e quanto si deve ma se cazzo hai fatto la cazzata fine e l'ho giusta ha detto ha fatto una critica che poteva essere costruttiva no non è costruttivo citarci a fondo oppure a commentare non voglio essere bannato ha detto prima di parlare un po' allora Iron invece Iron invece ha detto tipo genere secondo voi scoppierà fortissimo perché secondo me la battle real non durerà tanto eh per adesso lasciamo che continuino ad uscire tanto quante ne sono uscite troppe allora cominciando con H1Z1 poi che è stato il primo Arma 3 Arma 3 Pubg Fortnite poi ci sono quelle secondarie quelle secondarie tipo quella di COD poi ci sta Ringo Velisium Ringo Velisium Apex ne è uscita un'altra non mi ricordo quale eh vedi ne è uscita un'altra non ricordi quale sono uscite troppe Tetris capito Tetris 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 ha dato una nuova linfa però quello di Tetris è originale ed è molto carina perché è un obiettivo è Tetris e The Last Man Standing è carina come cosa Apex vabbè Apex non l'ho detto Tetris è Tetris diciamo ha ha Paladins è vero effettivamente ha tirato fuori quella che è il concept di Battle Royale ha espanso Paladins non lo sapevo comunque per rispondere ad Aero prima due giochi annunciati per i prossimi anni sono Cyberpunk e Beyond per i prossimi anni hanno anche annunciato di Head of the Scrolls 6 no vabbè dovrebbe uscire o quest'anno o il prossimo però io diceva nuovi generi ma nuovi generi è impossibile i due stanno andando verso l'RPG questi due giochi anzi Cyberbank è un RPG Beyond ha qualche genere secondo me l'RPG potrebbe essere uno dei prossimi ora ci hanno già provato un Kingdom Come ha fallito un po' meno nuovo non dico nuovo però secondo me potrebbe riavere una una hard calling io sto hard calling giusto io sto seguendo da un po' su Steam una BR sto aspettando che esca ma non penso uscirà oddio praticamente si dovrebbe uscire che si chiama Regress che ha una Battle Royale col combat system alla Bloodborne ok che come idea cioè comunque è carino come idea perché sai da Battle Royale con sparatutto facciamo una Battle Royale con gameplay che ne so alla For Honor o alla o alla Dark Souls esiste già Chivarri da anni per questa cosa Chivarri c'è la ma perché Chivarri però è il proto Battle Royale secondo me Chivarri davvero che era più presentato però come un arena Chivarri ce l'ho preso gratis ce l'ho su Steam non c'erano però è comunque si dice cioè parliamo di quelli che hanno cacciato fuori The Witcher il team è aumentato del 300% da The Witcher a Cyberpunk lo stanno facendo bene ma perché non voglio andare errato The Witcher comunque hanno preso qualcosa da partendo da una serie di romanzi poi invece di Cyberpunk tu stai prendendo qualcosa che è un gioco un gioco di ruolo tradizionale sì cioè sarebbe come fare il gioco di Dungeons & Dragons sì ma esatto comunque anche CSGO è andato PR abbiamo giocato un paio di volte quella è difficile ah CSGO c'è ragione abbiamo fatto abbiamo giocato in live una volta fatto figure di merda però prima delle live abbiamo vinto due volte di cui una per merito mio sparando due proietti di incroce lì a CSGO alla fine tra l'altro penso che ormai CSGO sia diventato ingiocabile visto è diventato free già era pieno di cheater prima non voglio immaginare adesso sì ora ma solo CS solo la Battle Royale di CS è gratis no no proprio CSGO è gratis ma anche CSGO è diventato gratis tutto il gioco adesso lì si diventa però di CSGO no io ci ho giocato ma c'è già giocato ma non però giustamente Luca diceva una cosa interessante tu l'hai comprato puoi giocare ai server soltanto con gente che ha acquistato il titolo credo no io me l'ha regalato non l'ho comprato però con il gameplay è vero che non con me ad esempio io per Witcher 3 no asco ho giocato a che difficoltà l'hai giocato giocato era le difficoltà più incazzati poi a me stava piacendo invece me lo regalò io che sono tranquillissima anche a livello base mi sta piacendo da morire no io a me non era più per niente infatti me ne sono pentito ma non l'ho giocato ce l'ho iniziato e non l'ho più giocato adesso però io penso che il punto di forza di The Witcher che sta anche ambientazione tramo che è abbastanza particolare ma ha tutto una tutta il cazzo di Gwen il Gwen no allora se vogliamo citare un gioco di carte all'interno di un titolo niente può battere il triple triad fai una fantasy 14 8 8 scusami perché ho detto 14 8 c'è anche il 14 ma perché quello è un MMO no no non ti do il gioco di carte vogliamo parlare ragazzi del gioco di carte di Hunter Hunter scusate mi piace tanto gridare c'è nel 14 il triple triad al gold sauser cioè il gold sauser vabbè ma parliamo di comunque dicevo la cosa figa di The Witcher cioè il re è che ogni missione secondaria è veramente una storia enorme a sé ti perdi ti perdi nella secondaria che è molto bello una cosa che lontanamente ci si avvicina sono state la metà delle secondarie di Odyssey però ragazzi devo dire una cosa molto brutta sono le 23 che sono le 11 passate e domani posso dire più presto per andare a un esame Marco non c'è allora quindi io dovrei io farei chiudere la live poi devo fare un botto di pipì io anche se per me il primo Witcher erano infernali Alice lo potrà dire a breve ammettilo mamma mia Ayrton lasciamo stare non tocchiamo quegli argomenti sono stata tutta fino adesso se comincia adesso facciamo un'altra di un'ora e mezza di quello posso parlare mamma mia vai vai Alice paraci delle dimensioni di sé no dai Alice ha i cartonati a grandezza naturale di Geralt e di Hercules della Disney e tra poco anche di Varus e tra poco anche di Varus si torna abbracciati come io ho quello di Kaisa nell'armadio ma se tu non hai ancora finito il body pillow vabbè ma allora se vogliamo fare giustamente una leggera direzione finale su Kingdom Hearts allora della trama parleremo una volta finito il gioco però prendendo il gioco in sé le cose che hanno aggiunto ci sono molti aspetti positivi in Kingdom Hearts e ci sono un paio di aspetti negativi il primo che mi sento di dire è che hanno fatto un upgrade dal punto di vista di gioco di ruolo cioè col fatto che io posso utilizzare tre Keyblade diversi che abbiano questo sistema delle fusioni che hanno preso praticamente da Birth by Sleep tutto il nuovo sistema con la Gammiship e quant'altro ok hanno messo questi comandi attrazione che in pratica è un'idea carina di integrare quelle che sarebbero le attrazioni di un Disneyland all'interno di Kingdom Hearts perché infine quello è tu stai vai sulle attrazioni che troveresti a Disneyland che escono troppo spesso che sono un po' troppo forti e semplificano veramente in maniera brutale il gameplay però a parte quello il titolo è veramente valido poi il fatto della trama lì è un discorso da fare totalmente a parte che noi stiamo parlando di una saga che è uscita oggi ho visto l'alpha trailer per sfizio il primo Kingdom Hearts diceva coming you 2001 e siamo nel 2019 cioè se qualcuno è nato il giorno di uscita di Kingdom Hearts 1 oggi ha compiuto 18 anni cioè non so se rende idea ma comunque per quanto tu parli del gameplay facilitato andiamoci conto che comunque ultimamente i giochi non hanno più la difficoltà però aspetta parliamo di gameplay semplificato però io lo sto giocando in standard devo giocare la difficoltà più incazzate a parte quello ma comunque i giochi single player direi sono più la difficoltà dei giochi single player per Playstation 1 perché se tu vai a vedere c'è l'esempio scemo dei Resident Evil no? che avevano degli enigmi che erano belli tosti per per i tempi ma così come anche Metal Gear Solid ok? che io non ho giocato prima mancanza però comunque so dei combattimenti con Psycho Mantis che dove ti leggeva zitto non dire ma lo sono tutti io non penso sia una cosa ma no tu non dire vabbè perché ci sta gente che sta seguendo la serie di Metal Gear e non lo conosce lascia fare scusate comunque ragazzi mi leggo gli ultimi che sta facendo Marco finisci il discorso però per favore no niente stiamo semplicemente stiamo dicendo che ma ti hai detto che il gameplay è semplificato ma ultimamente durante i giochi single player sono molto più facili rispetto a quelli che erano una volta va anche detto che hai citato l'unica serie che non ha un gameplay semplificato andando avanti con gli altri hai citato Metal Gear che non ha un gameplay semplificato negli anni anzi Metal Gear penso sia uno di quei giochi che più andando avanti più si è evoluto in maniera io parlavo di io parlavo di parte Phantom Pain che gli ultimi Metal Gear prima di Phantom Pain quando è uscito scusa ci sta ci sta Ground Zero che è uscito su Play 4 e Play 5 e Play 4 e Play 3 e poi ci sta Metal Gear 4 che è uscito per Play 3 poi ci sta Metal Gear 2 e 3 che sono usciti per PlayStation 1 allora ho fatto l'esempio sbagliato però comunque in generale giochi per PlayStation 1 o PlayStation 9 è un gameplay molto più complicato no sì ora si tende a semplificare per forza perché ma anche perché giocano molto più ragazzini no ma anche prima giocano ragazzini ma sono cambiate parecchie cose prima facevi dei il videogioco non è più di nicchia quello è il problema a parte quello prima facevi un gioco difficile e il ragazzino non aveva modo di sapere come andare avanti se no non passarci le ore o chiamare l'amico oppure aspettavi la guida che senso avrebbe la guida settimanale o compravi il giornaletto dopo il mese ma ora che senso avrebbe fare un gioco difficile da punto di vista non tanto dei combat system ma di enigmi che senso avrebbe tutti i ragazzini hanno un telefono hanno un computer hanno qualsiasi cosa secondo me non avrebbe molto senso lo fanno per i vecchi bacucchi come è possibile la cosa è che se tu cosa dici no ne ho scopri il messaggio di Marko provalo Kingdom Hearts 3 e vedrai che non è facile se praticamente dio non è ironico non è facile è ultra facilitato ah ok non cogliava l'ironia e KH3 è bello tutto l'ho anche platinato il problema è che il gameplay è davvero troppo semplificato che non è un boss passati come se hai frelotto l'armatura di terra sarà massa a parlare perché io purtroppo però magari avete anche il ricordo che va un po' a nostalgia perché io ho rifatto le versioni Final Mix Kingdom Hearts 1 una volta arrivata al 99 se ti ho sceso in terra Kingdom Hearts 2 presenta una sfida interessante in quelli che sono non è spoiler quelli che hanno aggiunto nella versione Final Mix tu puoi giocare contro i dati cioè quindi una versione digitale di tutti i membri dell'organizzazione 13 nelle loro versioni più incazzate quindi è come se fossero statistiche maxate e ho visto gente farli a livello 1 ah vabbè ma quelle cioè le level 1 run comunque non è sempre fatte a Kingdom Hearts no Mark fare una level 1 run su Kingdom Hearts non è come quando la fai sui souls non hai dei requisiti per riequipaggiamenti è più un fatto sui punti vita semplicemente va bene ragazzi direi che amici può andare così a live quindi grazie di averci seguiti in questo delirio fai i saluti e tutto quanto vabbè dai tu che sei al centro sei che sei in mezzo enorme dai qualcun altro vuole aggiungere così chiudiamo mentre io non sono ancora riuscito a parlare no buonanotte a tutti vi ricordo che abbiamo un canale telegram dove postiamo dei memoni meravigliosi e anche ovviamente gli avvisi delle nostre live un canale instagram dove postiamo cose altrettanto belle con immagini altrettanto belle mi raccomando faccici un salto e spammateci se vi capita se vi capita spammate anche un bel tastino su donation o su rinnovasub o su abbonati al nostro canale e niente ragazzi vi ricordo c'è vedere il pinguino comando youtube giustamente ci fa vedere il pinguino ragazzi alice è deficiente perché non si ricorda le cose ci fa vedere il pinguino quindi buonanotte alice non mi ascolta ragazzi alice il pinguino mi faccio vedere ganger quanto delizio liceo si tengono i soldi non fanno i tibili giuslam tu non hai visto abbiamo fatto certe partite in privato io ho sparato in faccia a marco soltanto perché mi ha detto una roba ma se mi hai spaventato ero dietro di te mi giro gli sparo ciao amici ma se avevo due a due bene ragazzi detto ciò buonanotte a tutti ci vediamo domani ricordati di pomeridiana forse gli hai dato facciamo rocket league e poi ci sarà la solita serale cosa ha dato ciao 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 forza ciao 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 ciao